Le ingiustizie e i soprusi che uno affronta nella vita sono il risultato del proprio karma passato? Allora vuoi una vita giusta o una vita fantastica? Devi decidere. Come questo funziona in superficie e nella sua stessa essenza? Questo è stato esplorato. Dentro di te c'è solo una persona oppure due. È molto importante che ognuno stabilisca questo. Sistema questa maledetta cosa. Quanto della propria vita è un risultato del karma passato? Le ingiustizie e i soprusi che uno affronta nella vita sono il risultato del proprio karma passato? Se è così, accetti queste ingiustizie e trovi sollievo nel fatto che, ok, il karma viene ripulito. Anche se potrebbe sembrare dannoso per la nostra vita in così tanti modi. Samantha, sei grande abbastanza per questo. Non dico che sei vecchia. Ho detto che sei grande abbastanza. Ti aspetti ancora che il mondo sia giusto con te? È per questo che faccio questa domanda. Posso dare la colpa al mio karma passato? È ciò che chiedo? Voglio che il mondo sia giusto con me. È una domanda da scolaretta. Ormai dovresti sapere che il mondo non è giusto. Non sarà giusto con te. Ma se scavi profondamente dentro di te e hai un assaggio di vita, non l'assaggio dei tuoi pensieri e delle emozioni, l'assaggio della vita che sei, allora vedrai. La vita non è solo giusta. È davvero fantastica. Allora vuoi una vita giusta o una vita fantastica? Devi decidere. Ho notato questo, che al di là dell'ego materiale, ora c'è improvvisamente un diffuso... Chi è questo signor ego? Un tuo amico? È ovunque intorno a me, nel mio settore, ai suoi vertici. Quindi, oltre all'ego materiale, ho notato che c'è ora un diffuso ego spirituale. Ho incontrato tante persone che ora sono su un sentiero spirituale. Non tu, Sadhguru, che si considerano superiori alle persone che non sono su un sentiero spirituale. Come consiglieresti queste persone affinché non cadano preda di questo nuovo ego spirituale? Per primo ci occuperemo di questo signore ego, ok? Se mi mostri dov'è, lo sistemo subito. Mi piacerebbe sapere dov'è. Continua ad apparire improvvisamente. Quindi non lo sai dov'è. La cosa è così. Vedi, in certi momenti, come persona, come donna, sei una bella persona, una persona meravigliosa, voglio dire. Scusa, non ho detto che solo in certi momenti sei bella, sei sempre bella. Ma certe volte sei meravigliosa, va bene? In certi momenti magari sei cattiva. Possibile? Quindi, ogni volta che sei cattiva, dici, è il mio ego. Perché non dici, sono io, sono a volte meravigliosa, a volte cattiva. Se vedi questo, naturalmente la cattiveria diminuirà. Ma se ogni volta che sei cattiva, dici, il signorego fa questo, e non sai dov'è, non conosci il suo indirizzo, l'identità, né conosci il suo numero di telefono, come lo sistemi questo tizio? A tutti accade questa cosa nella loro vita. Perché questo è il gergo spirituale senza essere spirituali. E ovunque, particolarmente in India, perché abbiamo 15-20 mila anni di storia spirituale. Quindi conosciamo tutti i termini. Sappiamo cos'è l'atma, paramatma, questo, quello, Ankara, tutto sappiamo. Solo parole. Solo parole, segnato. Quindi possiamo sparare parole come queste e confondere un bel po' la popolazione occidentale. Perché se vieni qui diranno mukti, shakti, questo, quello, ogni tipo di cose. Conosco tante persone che sono andate a creare dei centri spirituali in Occidente, particolarmente in America, solo perché conoscono un canto. Semplicemente un canto. Ok, asato ma sadgamaya, con questo mandano avanti tutta la cosa. Quindi sfortunatamente la spiritualità, in alcuni modi, è arrivata là. È arrivata là perché ce n'è bisogno nella società. Non c'è abbastanza fonte. Per questo motivo le persone creano questo qui e là. Questo è successo alcuni anni fa, 15-16 anni fa. ero negli USA e qualcuno nel nostro ufficio mi disse «Sadguru, lo sapevi che ogni giorno 100.000 persone digitano la parola spirituale?» Ho detto «Davvero?» Prova a digitarla e vedi cosa viene fuori. Almeno usciamo anche noi? Hanno digitato spiritualità. La prima cosa che esce è una spa in Messico. Ci sei stata? No, non ci sono stata. La cosa successiva che viene fuori è una squillo in California del Nord. Lei ha imparato tutta la SEO. Per ogni cosa dice «spirituale, spirituale, spirituale». 108 volte usa la parola spirituale sul suo sito web. Dici spirituale, lei salta fuori. Numero 2. Ho pensato, questa è una vergogna. Per migliaia di anni ogni cosa spirituale significa che le persone guardano verso l'Oriente. Oriente significa India. Ecco cosa significava. Allora ho detto «Dobbiamo iniziare qualcosa, un portale spirituale». Che se le persone dicono «Se cercano spiritualità, devono guardare verso l'India». Perché questa è una cultura che ha trascorso la massima quantità di tempo. la massima quantità di tempo esplorando la consapevolezza umana e la meccanica di ciò che un essere umano è. Come questo funziona in superficie e nella sua stessa essenza. Come funziona questo? Cosa possiamo fare al riguardo? Questo è stato esplorato. Non dico questo per via delle mie origini indiane. Lo dico dopo aver osservato il mondo attentamente. Da nessuna parte è stato osservato così. Allora ho detto «Dobbiamo avviare un portale spirituale». India, il portale spirituale. Ti devo dire questo. Fino a 15 anni fa circa non avevo incontrato un solo guru in questo paese. Non ne avevo incontrati. Ero occupato a fare il mio lavoro. Non avevo mai pensato di dover andare a cercare qualcuno. Non ero mai stato in nessun altro ashram da nessuna parte. Poi ho pensato «Ok, fammi fare un tentativo». Allora ho cominciato a fare delle telefonate. Hanno tutti accolto la mia telefonata piuttosto bene. Poi ho cominciato a fare visita ad alcune persone e a metterle insieme. Abbiamo avuto un incontro con 125 guru. Abbiamo fatto questa cosa che nessuno parlasse della sua filosofia. Tieni la tua filosofia. Questo è un semplice incontro. Questo è solo per migliorare il tuo ashram o il tuo centro yoga. Quello che hai. Come migliorarne la qualità? Ti insegneremo la gestione. Ti insegneremo il branding. Ti insegneremo come fare un sito web. Ti insegneremo come presentarti alla comunità internazionale. La tua filosofia non la tocchiamo. Non tocchi la mia. Non tocco la tua. Fai le tue cose. Perché questa è la bellezza di questa cultura che può esistere in centinaia di forme, migliaia di forme. E va bene per noi. Mentre mi occupavo di fare questo ho incontrato molte persone meravigliose. ma allo stesso tempo almeno il 60-65% mi fa male dirlo. Ho trovato che se entro in un aeroporto o un campo di golf incontro uomini migliori che nei cosiddetti centri spirituali. Perché è pieno di gergo. Niente cuore. Niente intensità. Niente profondità. Solo un canto. Una sciocchezza. Una filosofia che hanno letto da qualche parte. Va avanti così. Questo deve cambiare. Per portare questa profondità alle persone quando le persone mi si avvicinano divento più duro e più duro e più duro. Con quelli molto vicini sono davvero crudele. Sì. Perché il semplice portare integrità nella spiritualità è così difficile. Perché nel momento in cui diventano un po' spirituali come hai detto lo chiami ego spirituale io le chiamo aria spirituali. Prendono aria spirituali. Bolle d'aria gli entrano nella testa. Improvvisamente incominciano a comportarsi in modo bufo. Incominciano a dire cose che non esistono. Incominciano a parlare di assurdità che nessuno capisce. Se parli di qualcosa di qualunque assurdità tu parli la gente davanti a te deve capire altrimenti perché diavolo stai parlando? Perché lo scopo del discorso è di far capire a qualcuno ciò che dici. No. Se dico qualcosa che tu non capisci io divento grande. Tu diventi piccolo. Questa è spazzatura. Va avanti da troppo tempo. Quindi tutta questa spiritualità in quanto cosa sfortunatamente ha passato dei brutti momenti ma lentamente cresce perché il desiderio della gente aumenta. Devo dirti questo. 40 anni fa quando ho iniziato i programmi i programmi di ingegneria interiore in varie forme diverse l'85% delle persone veniva ai programmi solo per problemi di salute. Solo il 12-15% veniva per conoscere qualcosa. Oggi oltre il 90% delle persone vengono perché vogliono conoscere qualcosa fare esperienza di qualcosa. Solo l'8-10% viene per problemi di salute il che è un cambiamento significativo nella consapevolezza umana. Riguardo questa cosa dell'ego è una cosa che dobbiamo stabilire. Dentro di te c'è solo una persona oppure due? Penso una. Pensi una? Vado per una. Una. Questo significa che sei un individuo. Un individuo significa la parola individuo viene da indivisibile. Non sei ulteriormente divisibile. Questo è buono. Sei un individuo. se sei due allora o sei schizofrenica o posseduta. Psichiatra o esorcista? Ho avuto la risposta giusta. Deve venire uno psichiatra o un esorcista. È molto importante che ognuno stabilisca questo. Che non parlino di atma paramatma ego questo quello sei un individuo. Di che tipo sei? Uno meraviglioso o uno cattivo? Sistema questa maledetta cosa. Boa è una isorcità? È più che attrairà, ma risposta? Mi sono è una luna, mi sono la prima o Grazie per la visione!